alla sua morte, Schulz sarà l'unico autore delle storie di Linus. 12 febbraio del 2000, muore Charles Schulz, il papà di bambini memorabili come Charlie Brown, Linus e anche il cani Snoopy. 17.897 strisce, un record clamoroso, è la storia più lunga ma è raccontata da un unico essere umano. Era nato nel Minnesota nel 1926, i peanuts sono dolcezza, riflessione e ci hanno accompagnato per tutta la vita. La prima striscia viene pubblicata nell'ottobre del 1950, l'ultima all'indomani della morte di Schulz il 13 febbraio. Una curiosità, l'Apollo 10 quando decolla verso la Luna porta con sé un modulo lunare e un modulo di comando con dei nomi molto familiari. Gli scienziati hanno scelto per loro i nomi di Snoopy e di Charlie Brown.